Musica Entrare in campo Johnson Harper e Coiba Cafe Per questo primo match della serata, Snoop Up, settima giornata Ecco le due squadre Che arrivano al centro del campo Johnson Harper, maglia argento Coiba Cafe, casacca blu scura Coiba Che ha sostituito una squadra Una squadra di Milano in ferriera che ha abbandonato il torneo Ed ha subito centrato una vittoria alla prima gara Quindi siamo molto curiosi di vedere questi ragazzi La gara tra Under 25 Contro Over 35 E' molto interessante A tra poco per la sintesi E' molto interessante A tra poco per la sintesi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.